Sardegna Press è un portale dove al suo interno sono pubblicati tutti i comunicati stampa di enti pubblici, aziende, associazioni, società sportive e di tutti quei soggetti che comunicano puntualmente le proprie attività. Sardegna Press è una vera e propria agenzia stampa concentrata su quanto accade in Sardegna. Sardegna Press è un prodotto editoriale di MediaWeb Channel. Bene, caro Sandro, eccoci qua. Non era l'ultima intervista, l'ultima è questa. Abbiamo un personaggio importante del territorio sassarese, il dottor Giuseppe Cuculese. Fa anche rima, il direttore generale da ben dieci anni del gruppo Banco di Sardegna o BIPER. Banco di Sardegna, gruppo BIPER. Sandro, una domanda difficilissima per il dottore, so che ce l'hai. Io quando penso alle banche, perché comunque da imprenditore con il Banco di Sardegna abbiamo interagito sempre, perché siamo un vostro cliente, si potrebbe dire. Le banche ti aiutano. Se tu ti aiuti, altrimenti non ti aiutano. Allora la domanda che voglio farle è... Altrimenti è carità. No, diciamo che non è impresa. Ecco, la domanda che voglio fare al dottor Cuculese è questa. L'aiuto alle imprese, come è strutturato dentro il Banco di Sardegna? C'è una corpore, c'è sicuramente un'organizzazione che studia le nostre piccole imprese, anche spesso in difficoltà magari, per poterle aiutare a mantenersi nel mercato, a non soccombere anche di fronte a questi elementi che abbiamo visto che stanno accadendo. Come opera il gruppo BIPER, diciamo il Banco di Sardegna, nel nostro territorio? Come siete organizzati? Sì, siamo organizzati con un modello di servizio che è simile a quello del gruppo. Cioè è un modello di servizio che prevede una specializzazione verso i privati, una specializzazione verso le imprese, poi le imprese stesse divise tra piccole imprese e medio e grandi imprese, i piccoli operatori economici, cioè gli artigiani, e poi c'è una specializzazione ulteriore verso i cosiddetti privati personal dal punto di vista della gestione degli investimenti e del private banking. Quindi copriamo direi tutti i segmenti di clientela a 360 gradi. E poi ci sono gli enti pubblici, non da non trascurare, perché in Sardegna poi la gestione degli enti pubblici, mi riferisco quindi a tutte le tesorerie dei comuni, piuttosto che delle scuole o della regione stessa, per noi è un'attività molto importante, li abbiamo quasi tutte in Sardegna, ne abbiamo mille su poco più di mille, quindi direi un'attività per noi fondamentale, cerchiamo di dare un servizio al territorio buono, speriamo di riuscirci e finora ci siamo riusciti. Gli imprenditori sardi? Gli imprenditori sardi, guardi, per me sono grandi imprenditori, e qui vado un po' controcorrente rispetto a quello che si dice normalmente che in Sardegna non ci sono imprenditori. Io sono convinto del contrario, perché fare business in Sardegna è difficilissimo, è molto più difficile che fare business nelle altre regioni, quindi chi ci riesce, e sono molti a riuscirci, deve essere proprio bravo, più bravo degli altri. Il costo del denaro però qui in Sardegna è più alto che in Lombardia, in Piemonte, in altre regioni? Ma guardi, queste sono leggende metropolitane che leggiamo sulle statistiche, che però come tutte le statistiche vanno interpretate, perché viene detto che al sud il costo del denaro è a volte anche di un punto percentuale più alto rispetto ad altre regioni, però il costo del denaro non è legato all'effetto Sardegna, altrimenti dovremmo dire che la Sardegna è vista peggio rispetto alle altre regioni, non è così. Il costo del denaro è legato in tutta Italia alla solidità delle imprese e al rating delle imprese stesse. Siccome purtroppo, lo sappiamo, in Sardegna la struttura economica è comunque una struttura abbastanza debole dal punto di vista della patrimonializzazione delle imprese e c'è anche una grandissima diffusione più ampia rispetto alle altre regioni di piccolissime imprese, è chiaro che i rating sono peggiori rispetto ad altre regioni e quando la qualità del credito è peggiore purtroppo il costo del denaro è leggermente più alto. Quando è che le imprese Sardegna, secondo lei, dottor Cucurese, impareranno a capitalizzarsi di più? Perché il problema è lì. Però non è un problema, per capitalizzarsi bisogna avere dei patrimoni importanti. e onestamente chi poteva metterli li ha messi. Il problema vero è che in Sardegna il grosso delle imprese sono veramente piccole e micro imprese e quindi normalmente gli imprenditori sono piccoli imprenditori che in effetti hanno messo tutto quello che potevano, ma andare oltre diventa difficile. Quindi normalmente intorno alla grande impresa poi nasce il distretto delle imprese. Qui in Sardegna, laddove c'è qualche grande impresa, abbiamo dei distretti intorno, ma non sono molte, sono molto meno rispetto ad altre regioni italiane. Quindi direi che il problema della patrimonializzazione è un problema, però a volte si può superare anche mettendo in piedi altri strumenti, è un'efficienza di andale magari migliore rispetto ad altre regioni. Una domanda, il turismo? Com'è? Come lo vede il Banco di Sardegna? Ma guardate, il turismo, il Banco di Sardegna non può che vederlo bene, anche perché l'esposizione che ha il Banco di Sardegna nel settore del turismo sia diretto, sia indotto, è importante e non poteva che essere così, essendo una banca sarda. Per noi poi è un settore che ha degli imprenditori molto validi e le strutture delle imprese alberghiere sono strutture rispetto ad altre anche molto più solide perché spesso e volentieri hanno nel loro patrimonio aziendale la proprietà dell'albergo e hanno anche dei flussi importanti. Il mio pensiero è che purtroppo spesso e volentieri il male del turismo in Sardegna lo fanno anche molti operatori turistici, non i più grandi, perché molti sono abituati a piangere, a piangere, a lamentarsi sempre e questo non fa bene a chi vuole venire in Sardegna. Io credo che se andiamo a vedere poi i bilanci delle aziende turistiche sono bilanci che hanno resistito a fronte di un 2020 che ha avuto un calo del fatturato del 60% e questo vuol dire qualcosa, nessun'altra azienda, nessun altro settore avrebbe resistito a un calo del fatturato del 60%. Se il settore turistico sardo ha resistito è perché è un settore solido e ben gestito. Dottor Cucuresi ci troviamo di fronte, allora l'anno scorso c'è stato un aumento del PIL importante adesso pare che sia deflagrato, non rischiamo di giocarci questa ripresa economica con il fatto che non ci sono materie prime, che manca il legno, che manca l'acciaio? Come la vede lei? Voi avete un centro studio importante, che cosa vedete nel futuro a breve termine? Cosa succederà secondo voi? Purtroppo questo è un problema mondiale, non è un problema sardo l'aumento del costo delle materie prime che peraltro si stava già realizzando prima dello scoppio della guerra, quindi la guerra non ha fatto altro che peggiorare la situazione è un problema strutturale che va analizzato non quando entra in atto ma andrebbe analizzato e programmato ben prima solo adesso ci stiamo rendendo conto che forse siamo troppo dipendenti o da un paese o da una risorsa energetica anziché rispetto a un'altra ecco forse dobbiamo cogliere, speriamo una volta per tutte da questa esperienza negativa perché ci aspettano tempi non certo positivi Dunque la vedo male? Non è che la vedo male, però certamente quello che vediamo tutti i giorni è un problema è un problema che si ripercuote peraltro anche sulle tasche dei cittadini quindi è chiaro che tutto questo sta portando anche a delle problematiche non dico di sopravvivenza ma comunque di dover un po' erodere i risparmi per poter pagare queste spese di prima necessità e purtroppo stiamo vedendo che l'inflazione ha ripreso a salire in maniera importante cosa che non eravamo più abituati a vivere No, secondo me non ci arriverà a doppia cifra perché per fortuna il governo le sta provando tutte da questo punto di vista devo dire mai come negli ultimi due o tre anni il governo è intervenuto dal punto di vista finanziario rispetto al passato cioè quello che abbiamo con la liquidità che è stata messa sul mercato a 360 gradi è un qualcosa di veramente importante quindi io credo che non arriveremo a quegli estremi però certamente dobbiamo cominciare a lavorare già adesso per prepararci a dover tirare un pochino la cinghia sperando di non doverla tirare per troppo tempo Aumentano i poveri? Ma i poveri purtroppo erano già aumentati con la pandemia però diciamo l'Italia ha ancora la possibilità di mantenere un equilibrio importante poi la solidità in Italia è molto diffusa ecco io sono più preoccupato sugli aspetti di macroeconomia che purtroppo interesseranno partiranno dai principali paesi poi andranno a scendere sull'Italia e purtroppo scenderanno anche poi sulla Sardegna quindi dobbiamo prepararci per tempo e riuscire a essere pronti a respingere ecco questo tipo di attacchi speculativi Il banco è pronto? No ma il banco diciamo il banco lo è sempre stato pronto la grande fortuna del banco è avere una grande solidità patrimoniale avere una clientela molto fidelizzata noi abbiamo 640.000 clienti in Sardegna che non sono per niente pochi siamo in effetti la banca metà della popolazione siamo la banca di riferimento anche degli enti pubblici e siamo in grado col patrimonio che abbiamo e la professionalità e l'assistenza che riusciamo a dare a dare una mano a fronteggiare bene questi momenti è chiaro che da solo lì non possiamo fare nulla noi pronti ci siamo e faremo tutto il possibile Cosa succederà nel risico bancario da qui a breve? Ci saranno ancora delle... Voi avete visto cosa è successo già quindi il processo di consolidamento è andato avanti in maniera molto veloce e continuerà ad esserci perché vediamo che le masse che una volta erano considerate grandi ormai non lo sono più e quando la massa diventa sempre più grande tu ti senti sempre più piccolo quindi è chiaro che è un processo che andrà avanti prima o poi si arresterà perché poi non è che ci dovrà essere anche una concorrenza sul mercato quindi non si può poi diventare un'unica entità però io credo che qualche aggregazione ancora ci sarà Non posso non farle la domanda sulle criptovalute Che cosa ne pensa? Questo denaro virtuale Ha trovato il peggior rappresentante per poter parlare di questo argomento perché io fin dal primo giorno le criptovalute non le ho mai viste bene e continuo a non vederle bene poi come sempre il mondo va avanti e quindi anche le criptovalute diventeranno un prodotto finanziario così come tanti altri però io credo che prima di riuscire e di diffonderle in maniera ampia e adeguata bisognerà mettere in piedi tutti quegli strumenti di controllo e di verifica che sono stati già messi in piedi per altri prodotti finanziari quindi io non capisco perché abbiamo fatto di tutto e di più per presidiare meglio i derivati per presidiare meglio la trasparenza nei titoli eccetera e a questo punto non vedo perché non dobbiamo fare le stesse cose per preservare le persone dall'eventuale possibilità speculativa a cui si può essere soggetti operando in criptovalute ci vuole attenzione Fausto come sempre beh sì ci vuole attenzione io non sono cioè io non è che voglio dire non va bene le criptovalute sicuramente il mondo va avanti e questo è diventato un prodotto di ampia diffusione a livello mondiale quindi c'è anche da noi è un prodotto altamente speculativo abbiamo visto proprio le oscillazioni che possono avere e quindi come tutte le cose devono essere messi in piedi dei controlli che garantiscono il consumatore da non essere preso nel mezzo in questa situazione anche perché poi ne fa le spese eh no che poi l'unico che ne fa le spese è l'utente finale ecco certo poi c'è il metaverso di Zuckerberg quello mi fa paura che invece è un altro modello il metaverso mi fa paura ma comunque sulla parte di blockchain sicuramente le banche quelle francesi almeno che le seguo un po' di più Banca Agricole eccetera Paribas stanno investendo molto perché non vogliono farsi sfuggire questa partita importante e comunque è una partita dove la banca o c'è o muore cioè non è che può fare non è che dice gioco una partita secondaria le banche in Francia voi non ne parliamo hanno centinaia di sviluppatori che stanno lavorando il mondo va avanti tutti devono stare davanti piuttosto che indietro nessuno può trascurare di non cogliere le opportunità che arrivano però guardate state tranquilli che ci sono dei regulators sul mercato a livello nazionale ed europeo molto attenti su queste cose quindi un conto è che nasca un prodotto altro e che venga diffuso senza i necessari presidi di controllo quindi da questo punto di vista mi sento abbastanza tranquillo faccio l'ultima domanda che consiglio anderebbe ai giovani che vogliono intraprendere oggi proprio in questo momento attività autonoma di imprenditore a che cosa devono stare attenti maggiormente la cosa più importante a cui devono stare attenti qual è secondo voi ma guardi oggi spesso e volentieri si confonde la mission con la vision si sente parlare di mission e si confonde con la vision la mission sappiamo tutti è quello che uno deve fare oggi la vision è il sogno nel cassetto del domani secondo me ai giovani dobbiamo garantire la vision quindi non devono mai mettere nel cassetto il sogno secondo me i giovani oggi devono anche perché sono svegli sono molto più svegli di quelli dei miei tempi e quindi i giovani oggi devono continuare a sognare e devono provarci poi è chiaro che non tutto riesce non tutte le ciambelle sono perfette però provandoci si riesce a fare è chiaro che non si può neanche provare a fare tutto bisogna anche consigliarsi nel modo giusto ma io credo che anche oggi il ruolo della banca adesso io parlo in Sardegna del Banco di Sardegna noi partecipiamo a molte iniziative di start up anche di concorsi che organizzano Confindustria piuttosto che le varie associazioni per aziende giovani che nascono sul mercato con idee innovative noi cerchiamo di seguirle e anche al limite poi di iniziare a sostenere le finanziariamente anche perché all'inizio non ci vogliono grandi capitali l'importante è che quando si parte col piede sbagliato o si ci ferma subito o se no si cambia rotta altrimenti poi diventa difficile Pausto ringraziamo il nostro grazie dottore adesso la lasciamo la mandiamo a lavorare grazie grazie a tutti sei stato qui grazie 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 farinelli fresco market piccoli sinceri e convenienti